E' morto a 19 anni a causa di un incidente autonome in via Due Fontane, Luigi Fonti e il nome del Nisseno che si è schiantato contro un muro. Il violento urto lo ha sbalzato fuori dall'abitacolo, ad intervenire i carabinieri e il 118, ma per il giovane trasportato in ospedale non c'è stato nulla da fare.